Ciao a tutti ragazzi, oggi facciamo Napoli vs Inter Io e papà saremo insieme Esatto, stessa squadra, io te la passo e tu segni, ok? Aspetta, scusa Scegli tu i personaggi? Ora devi scegliere Sonic e Yoshi Allora, Sonic, qual è questo? Sì, è Yoshi Yoshi è questo drago? Sì Ok Sono le squadre più forti Va bene, allora mi raccomando Giochiamo bene Giochiamo bene Passiamocela bene Passiamocela bene e vinciamo soprattutto E facciamo gol bene Facciamo gol bene Squadra Krikri JTV Contro squadra P.H. Pitch Ok, tocco Portiere questo che fotte Tutto passato Ma io che personaggio sono? Adesso sei il clip di Giochini Oh Ah, io sono il rosso Io sono il rosso Adesso ho capito Quello con la figurina rossa Oh No Ok, 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 ok Oh, Yoshi, Yoshi Passa, passa Oh, tira No Fallo? Per... Per favore Fai un po' di telecronaca Così io capisco Ah, eh Allora Nooo Il coccodrillo Adesso il coccodrillo Cross Oh, wow Cross O te la passo Passamela Passa Ripassa Dove sei? A qualunque A qualunque A qualunque Ok, ok No Dai, dai, dai Dai Cristiano sono al centro Palla al centro Palla al centro Che segno Passa, passa No, c'era quello scimmione Che Quello scimmione è forte Quello scimmione mi ha fermato Parata Passa, passa Passa, passa Dai, vai su Vai al centro Io te la passo No No, ho sbagliato Scusa Bravo Dai, dai Dove sei? Dove sei? Te la passo a te No Quello scimmione Sempre in mezzo Lo scimmione Sempre in mezzo Vai, vai Non è fallo Dall'avanti Dove hai giù fallo Te l'ho passata Dai Vai, vai, vai No No Scimmione Difficile, eh Sto scimmione No Lo scimmione che avanza No Uh No Ma meno male Però non è tanto preciso Nel tiro lo scimmione No Dai, 0-0 Dobbiamo resistere Cristian Canto all'inizio Dobbiamo fare un gol No Io sono quello di rosso Prima di finire Poi facciamo Prima di finire Faccio vedere Quanto sono bravo A giocare da solo Ma Ma cos'è Ma chi è Non lo so Io ho schiacciato bene E l'ha tirato su Passa, passa, passa Ok, molto bravo Ora io te la ripasso Quanto vuoi Ma dove sono io Ah, sono lì Sono al centro Fammi, dai Fammi un cross No Non ho potuto fare il cross Andavo di testa Andavo di testa Eh, lo so Di tacco Passa di tacco No Uh, meno No Chi è che deve parare Tocca a te Para No Dai, dobbiamo Remontata Cristian Remontata Eh Dai, remontata Passa Veloce Passiamo veloce Dai, dai, dai Vai Passa a te Dai, passa a me Passa al centro Vai No Sì Sì Fermata Sì Sì Sto lasciando No 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 Oh, te la ripasso Passamela Vai, vai, vai Passa avanti Dai, passo avanti Ti faccio il cross Vai al centro Devi farveloce No No, no Stavo tirando Mi l'ha bloccata E anche a me Lo scimmio Lo scimmio No Tanto siamo 1-0 Che devo dire Dai, dai Dobbiamo vincere Dai che possiamo ancora recuperare Vai, vai C'è già il secondo tempo Vai Cristian Tira 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 Vemagoria 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 Mamma che sei un campione Spione Dai dai che dobbiamo Allora c'è i supplementari Passa No Ah si Dai, dai che magari vinciamo Dai si No 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 Vemagoria 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 Sì Vemagoria Vemagoria Ragazzi, sarò forte! Dovrò passare alla modalità difficile perchè io sono ancora nella modalità facile poi c'è la super difficile che è difficilissima Calcio d'inizio Time Guarda, come sono forte Oh Mario, il difeso è sempre forte Ecco, si trova! Sì! Arriva! Arriva! Corso! Allora! Go! Guarda! 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 Stai! Ah! Ehi! Sì! 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 Papà! Papà! Sì? Vieni a vedere Sì! 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 Mi ha pagato tra Bowser e Mario! Guarda! Palmer! La donna è il secondo vlog! La donna è il secondo vlog! La donna è il secondo vlog! Voglio assistere! No! 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 Sono scambi! No! No! Vabbè, fatti! No! Guarda! Via! Ah! Mmm! No! Te l'ha fregata! Te l'ha fregata! Fai uno! È il primo tempo! Sì! Sì! Yoshi la ruba! La passa a... A curare gli zettini che sono io! Poi... Tiro! Che parata! No! Ve lo tirano dall'angolino! Justamente! Aspetta! Faccio la scimulata di davanti se mi fa diventare scambi! No! Come? Ma tu non mi scavo il trato! Da davanti non potevi neanche farlo! 3-0! Cambio e tacco! Tutti con l'attacco! Calcio di inizio! 3-0! Rubo palla! Subito! Subito rubo palla! Mi stacco un po' da Mario! E invece... Il quarto gol! Quattro a te! Il quattro a te! Il quattro a te! Il quattro a te! Il quattro a te! Ok Yoshi! Passerà mai! A-ah-ah! A-ah! A-ah! Uuuu! Buono! 5-0! O-oh! 1-0! 5-0! 5-0! 5-0! 5-0! Ok! Oh wow! Wow! Ah! Ok! Ah! Wow! Wow! Ah! Sei, cinque, sei! Sono troppo forte! Tempo di recupero! Tollo! È fuori! Passo! La ripasso! Quello era un po' avanti! Sì! Devo andare nella modalità difficile! Sono troppo bravo in quella normale! No! 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 Di nuovo, cansello! Tempo scambio! Ho vinto! 7-0! Mi leggo tutto! Tiri per la mia squadra! 12 per la mia squadra! 8! Passaggi riusciti! 91 per cento! La mia squadra è avversaria! 90 per cento! Manca non c'è! E... Espetta, questo è il nostroASE! Di rucuto! Con il nostro Hiancino e Tifalco! Scambio, mi leggo un po' di rispondi. Baia! Tifalco, mi leggo un po' di rispondi! Tifalco, mi leggo un po' di rispondi! Grazie a tutti.